Siamo assistendo a un match davvero emozionante su un risultato di 3 a 2. Arriva l'intervento dell'arbitro, punizione. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare Pierluigi. Una bella punizione, ma certo l'affeggiamento difensivo è da cancellare. Ci hanno creduto e sono arrivati al goal dopo una bellissima azione. Calcio di punizione da manuale, una traiettoria è da pista. Il portiere è rimasto fermo a guardare.